Unisciti al sistema Wireless Marshall Multiroom e trasforma la tua casa nell'esperienza musicale più innovativa. C'è un diffusore Marshall per ogni spazio, grande e piccolo. In modalità wireless è possibile riprodurre canzoni diverse in ogni ambiente oppure lo stesso brano in tutta la casa. Pensa a questo sistema come a un pass personale per il backstage di tutti i brani del pianeta. Connettiti in modalità wireless con Chromecast integrato, Spotify Connect, Airplay o Bluetooth e accedi ai servizi di streaming musicale più famosi. In alternativa, collega il giradischi tramite il connettore RCA o utilizza l'ingresso da 3,5 mm per un collegamento analogico. Grazie alle diverse opzioni di connessione, questo diffusore ti offrirà infinite modalità di ascolto. Configura in modo semplice il tuo sistema wireless con l'app Google Home. Quindi personalizza il tuo diffusore con l'app Marshall Multiroom. Sette preset one-touch racchiudono tutti i tuoi preferiti. Solo premendo un tasto hai accesso immediato ad artisti, album e playlist su Spotify o su stazioni radio online. Sono tanti i vantaggi di utilizzare la rete Wi-Fi domestica per lo streaming, in alternativa al tuo dispositivo. Non c'è mai stato un sistema di diffusori migliore. Crea un'esperienza musicale su misura e utilizza diversi diffusori in più stanze. È possibile controllare istantaneamente il sistema di diffusori con qualsiasi smartphone, tablet o computer collegato alla tua rete Wi-Fi domestica. L'ascolto tramite Wi-Fi offre il vantaggio della codifica lossless per una qualità audio eccezionale. Una volta connesso, il Wi-Fi si attiva e non dovrai più consumare la batteria del tuo dispositivo. Puoi ricevere chiamate e messaggi o guardare i video sul tuo dispositivo mentre riproduci la tua musica. Il Wi-Fi offre una portata più ampia rispetto ad altre opzioni, dandoti la libertà di spostarti senza perdere la connessione. È casa tua. Dalle l'audio che si merita. Crea l'audio perfetto per la stanza in cui ti trovi regolando gli acuti e i bassi sul pannello di controllo analogico. Il sistema Wireless Marshall Multiroom sfrutta oltre 50 anni di esperienza permettendoti di portare il palcoscenico a casa tua.